Ehi questa è la maxistoria di come la mia vita è cambiata capovolta sotto sopra sia finita seduto su sta barca qui con te e ti parlerò di Gendry il bastardo di Robert battendo ferro nel distretto sono cresciuto me la sono sudata bleh che schifo ogni minuto le mie brutte giornate filavano così tra i piedi mie di colera e secchiate di pipì poi un cavaliere venuto da lassù mi chiese con chi mia madre ha fatto snu snu gli risposi non lo so che cosa vuoi da me ma il maniscalco preoccupato disse piatelo con te l'ho pregato scongiurato ma coi guardiani vuole che vado mi ha tirato l'elmo in faccia ha detto va per la tua strada con cicciono un ragazzino ho intrapreso il mio cammino poi mi hanno catturato mi han venduto e torturato Melisandre ma è uno spallo arazzi dorati e bicchieri di cristallo se questo vuol dire essere sangue di Robert poi tanto male non è mi hanno usato e chiuso al gabbio Master Devos mi ha aiutato come una donna di Ramsey mi sentivo abusato una pira funeraria sta bruciando per me remo tutta forza il figlio di Robert tu 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 tu